Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo che doveva essere un vlog molto diverso, un vlog in cui vi annunciavo che dato le pochissime, bruttissime visualizzazioni del primi 30 minuti di Horizon Forbidden West, io avrei droppato l'idea di portare altri contenuti e di fare altro anche su Elden Ring, appunto spiegando che questa era la prova provata che certi limiti, certi titoli, scusatemi, hanno dei limiti sulla piattaforma, ovvero li hanno portati in tantissimi, i più grandi sono i titoli più attesi di quest'anno, si sono fatti attendere per tutto l'anno scorso e l'anno prima ancora, quindi raggiungono un pubblico che ha già avuto quello che voleva. E noi piccoli canali dovremmo starne tra virgolette, non dico la larga, ma prendere molto con le pinze questo tipo di titoli. Ecco che però poi inizio a giocare Horizon in live con voi su Twitch e oggi che dovevo pubblicare un altro video, appunto quello che vi ho appena descritto, mi son detto no, no, perché? Inseguire le visual e cercare di andare laddove ce ne sono di più, ce ne potrebbero essere di più, è giusto, non è sempre sbagliato, si viene fatto con un minimo di cognizione di causa. Ma perché io mi devo impedire di fare una cosa del genere? È controproducente, certo, ma perché? Ecco che mi son detto allora, in live mi sto divertendo a giocarlo con voi e quindi continuerò a farlo e su questo canale verranno ricaricate quelle live. Le prime due saranno degli scaricamenti diretti da Twitch, quindi la qualità non sarà il top purtroppo, però dalla terza live in poi registrerò io direttamente il contenuto in maniera tale da darvelo come al solito in full HD senza nessun problema. Non potevo esimermi dal provarci, non posso e non voglio limitarmi, quantomeno con Horizon. Elden Ring? Non lo so. Questo sarà un World True, sì, perché faremo quasi tutte le side quest, faremo praticamente tutti i percorsi che ci potranno fare, non sarà un completismo al 100%, questo lo voglio dire, quindi se cercate questo siete nel posto sbagliato. Ma non vuole nemmeno essere un... lasciamo verso la storia, finiamolo in... dieci ore di video. No. Voglio che sia qualcosa di fatto e gestito un po' meglio. Un World True. La pubblicazione sarà nel weekend, in maniera tale da chi lo vorrà vedere in settimana lo potrà vedere, in settimana terremo ciò che è, diciamo, importante per la sopravvivenza, se potremmo parlare così, di questo canale. E non mi voglio togliere questo sfizio, quindi lo giocheremo in live e io ricaricherò le live qui su YouTube. Ci potrebbe darsi, potrebbe darsi che ci siano dei momenti in cui ho voglia estrema di giocare e magari è troppo tardi. Allora ci saranno dei video proprio, dei video veri e propri, in cui io non sarò in live, ma giocherò in diretta con voi. Ovviamente sarà un pochino diversa la visualizzazione, la UHD, lo vedrete, la grafica del canale durante la registrazione. Ma il mio faccione da pila ve lo voglio tenere, per tutta l'avventura. E non so se arriveremo a fare delle speculazioni, che cosa. Qualcosa ho detto in queste live, di quello che mi sembra la storia. Sono ancora in un punto un po' chiuso di tutto Horizon, Forbidden West. Abbiamo appena messo piede nell'Ovest, anzi non abbiamo ancora attraversato quella prima porta. Nell'orizzonte dell'Ovest sproibito. E lo facciamo insieme. Lo faremo insieme in live e lo faremo qui su YouTube. Fanculo, lo dico con profondo nel mio cuore, fanculo tutti i ragionamenti che ho fatto. Facciamole e basta. Piccolo avvertimento? Sì, ve lo devo fare un piccolo avvertimento. Ci sarà un po' di strong language, perché ovviamente in live mi lascia un po' più andare. Quindi, qualche bestemmia? Sì. Qualche parola di troppo? Sì, qualche commento un po' cattivo, qualche battuta un po' sporca? Ci saranno. Io vi ho avvisato. Per il resto, beh, buona visione. E ci si vede in live, su Twitch, ilterio89 e qui su YouTube. Come sempre, sotto ogni video. C'è la sezione commenti, in cui potete dire cosa ne pensate. Un bel like non fa mai mai dispiacere. E l'iscrizione, se non avete ancora fatto, permetterà a questo canale, forse, forse un domani, di poter portare un titolo, un contenuto così, in una maniera migliore. E senza questi tentennamenti. Alla prossima, ragazzi. 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 Grazie.